E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterside Crypto io sono Emiliano e anche oggi torna il nostro update versione serale perché abbiamo un sacco di cose da dire il giorno dopo il day after FOMC è successo un po' di tutto andremo a vedere dei dati molto importanti riguardo le liquidazioni un settore crypto sotto attacco andremo a vedere un sacco di promo che ho selezionato per voi quindi non perdiamo tempo oggi forse viene un video un po' più lungo ma spero sia interessante come sempre se vi fa piacere ricevere questi contenuti vi invito a lasciare un bel mi piace ad iscrivervi al canale col clic sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati e basta direi date un'occhiata veramente ai link che trovate qua sotto in descrizione partiamo perché abbiamo veramente tante cose da dire ieri ci siamo lasciati con un'analisi abbastanza semplice vi ho detto ok sta reagendo bene il mercato alle parole in realtà di Powell ma ho detto nulla ci vieta che possiamo andare tranquillamente a ritestare questa zona qua di liquidità pescare liquidità e ripartire in effetti quello che è accaduto poi mi concentrerò meglio sui grafici ma intanto volevo spoilerarvelo subito lo vedete abbiamo pescato perfettamente liquidità in questa zona che era una zona molto molto appetibile ed è stata comprata in maniera aggressiva infatti siamo andati velocemente a recuperarla e volumi orari in questo momento che ci hanno spinto nuovamente al di sopra dei 28 mila dollari nel momento in cui ci sto registrando 28 mila 500 dollari circa insomma con un top addirittura sui 28 e 8 quindi andare proprio a ripescare questo massimo quindi una reazione fondamentalmente in v-shape recovery questo dovuto anche principalmente a delle liquidazioni che nelle 24 ore hanno raggiunto i 358 scusatemi 353 milioni di dollari maggior parte di queste liquidazioni sono long chiaramente anche se vedete una gran parte di short questo dato probabilmente è un po' inficiato dalle ultime ore appunto vista le candele che è andato a proporre bitcoin e anche le principali al coin tra cui ethereum altro nome perché mi seguo i miei video sa che ci stavamo per posizionare con delle entry su questo nome perché andava in un oversold soprattutto nella coppia ethereum btc che ha portato un bel po' di potenziali gain quello che volevo farvi vedere poi è coinbase perché coinbase ormai è sotto attacco ormai la sec ha deciso che qualsiasi cosa è una security qualsiasi cosa è una violazione delle leggi sulle security e anche il buon coinbase è sotto attacco sempre appunto riguardo un po' queste situazioni dove in realtà si va a mettere in luce coinbase earn il fatto dello staking eccetera eccetera e che è abbastanza cioè ragazzi davvero ogni volta ci penso e dico ma di cosa stiamo parlando cioè coinbase è un po' l'istituzione americana per quello che è il settore cripto ora ad andare ad attaccare coinbase che è listata eccetera eccetera a della compliance che è fuori di testa per metterle in difficoltà è un attacco fondamentalmente della sec al settore cripto ok non mi viene da pensare ad altro perché se si va ad attaccare qualche cosa di esotico dove c'è davvero qualcosa da monitorare però io penso che coinbase insomma non metterei la mano sul fuoco su nulla però insomma andare ad attaccare tutto quanto è una security mi sembra un po' fuori di testa poi fatemi sapere anche voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti comunque sia Brian Armstrong il suo CEO ha fatto un tweet abbastanza lungo dove appunto ha parlato di come loro non hanno niente da nascondere di come loro a chi danno anzi regolamentazioni per andare incontro alle esigenze e poter operare in una maniera più legittima possibile negli Stati Uniti e soprattutto dice che andranno avanti con azioni legali nel senso che non hanno nulla da temere e proseguiranno in tal senso vorrei farvi ragionare poi su un grafico questo è il grafico dell'M2 cioè dei billion of dollars in circolazione che penso che vi faccia un po' pensare ogni tanto lo ritiro fuori ma credo che sia appunto utile per capire un po' l'economia come va dove ci troviamo ecco questo è un grafico dal 1960 e guardate le emissioni dei dollari soprattutto nell'ultima parte cioè quando c'è stato appunto l'incremento dovuto al covid che abbiamo buttato su da 15 billion of dollars 15.000 billion of dollars ad arrivare a 21 ok un più 25% quasi ok di supply buttata su e stiamo leggermente correggendo quindi vi fa un po' pensare come il dollaro l'inflazione sia davvero una situazione difficile da controllare e che questi incrementi di tasso che già generano difficoltà nel settore bancario siano una un allarme molto interessante molto più che interessante molto preoccupante la stessa cosa ve la faccio vedere sulla diciamo sul potere di acquisto del dollaro guardate dal 1940 è impressionante come sia sceso in una maniera incredibile siamo arrivati a dei valori che praticamente se questa fosse una shitcoin vi direi che non si tocca neanche con un bastoncino quindi capite che l'economia va in questa direzione e tornare in territori di inflazione controllata diventa sempre più complicato soprattutto viste le condizioni attuali di tutti i mercati quindi davvero facciamoci un ragionamento fatemi sapere anche cosa ne pensate sotto nei commenti però insomma bisogna sapere su cosa si va a parlare perché è importantissimo soprattutto in queste condizioni di mercato molto incerte prima di andare avanti voglio lanciarvi insomma questa iniziativa che io spero sia di vostro gradimento perché me l'avete chiesta in tanti in realtà anche in privato e ho pensato di farla perché può essere una lezione frontale tra me e voi di gruppo non andrò ad avere tantissime persone quindi cercherò di tenere un numero chiuso ora vedrò un po' come vanno le iscrizioni a un certo punto probabilmente le andrò a interrompere in ogni caso è una lezione un po' avanzata di strategie le ho chiamate tatti cooperative che utilizzo io e che ho appreso nel tempo ok nella mia esperienza nel settore cripto unita anche un po' alla finanza tradizionale sapete un po' i miei studi e ho cercato di fare delle slide una lezione abbastanza dedicata all'operatività quindi poche chiacchiere e più parte insomma con esempi pratici per capire un po' quello che è la metodologia che utilizzo io di analisi un po' avanzata quella che un po' nei video mi rendo conto che non sia molto leggibile proprio perché cerco di stare contenuto il programma lo potete vedere voi potete fermare il video e dargli un'occhiata in ogni caso sarà molto focus e soprattutto la cosa figa secondo me sarà il nostro Q&A domande live risposte sarà una riunione su un google meet penso e con il quale appunto andiamo poi a interagire insieme vi ripeto è un'idea di portare una è come una formazione one to one però con me direttamente e soprattutto con una panoramica globale che quindi spero vi rimanga ben impressa poi probabilmente andrò a registrare tutto questo farò un videocorso e poi andrà in disparte però questo diciamo che è un lancio e quindi mi piace farlo con voi direttamente in live senza avere un filmato fermo insomma e poter poi parlare insieme perché può aiutare tutti a capire un po' e fare formazione insieme quindi vi lascio qua sotto il link per registrarvi a questo evento giovedì 30 marzo alle ore 20 spero che sia cosa gradita insomma me l'avete già chiesto ve lo ripeto però ci ho pensato e prima di farlo faccio una roba fatta bene insomma mettendo insieme dei concetti e quindi ci siamo siamo pronti per farlo bene ultima cosa ve l'ho detto che oggi il video è lunghissimo zoom ex che ne ho già parlato in realtà ha lanciato una promo solo per la community di afterside come fare per le prime 200 persone non di più non una di più non una di meno praticamente se vi registrate no che è sì quindi non c'è nessun problema su zoom ex qua sotto avete nella se cliccate qua sul pulsantino qua dell'omino avete i zoom ex rewards hub praticamente sul primo deposito di 100 dollari avete direttamente accreditati 10 dollari di bonus usdt che potete utilizzare per fare qualsiasi cosa tradare eccetera eccetera sono bonus usdt se andate a movimentare almeno 1000 dollari chiaramente utilizzando le leve non è complicatissimo oppure 1000 dollari insomma spot qualsiasi cosa in trading volume avete altri 5 dollari direttamente accreditati quindi per un totale di 15 dollari dategli un'occhiata perché è un'iniziativa secondo me molto carina soprattutto perché si tratta di fondi gratis quindi senza dover per forza fare nulla i 10 dollari poi potete anche ritirare questi fondi qua però insomma vi invito poi a provarlo zoom ex insomma un exchange che stiamo utilizzando passiamo ora ai gainers ai losers dico ai market cap gainers abbiamo light coin un più 14 per cento abbiamo dash un più 10 abbiamo masco un più 9 aptos 5 per cento flare un più 450 eccetera eccetera tra i losers praticamente arbitrum che chiaramente appena listato non fanno un fa testo già in posizione 37 attenzione ve l'ho già twittato a mio parere questa roba qua si tocca solo quando si è finito gli scar lo scarico di tutti gli airdrop ton coin un meno 10 conflux un meno 8 uobi un meno 7 trono meno 5 insomma via discorrendo questo perché in realtà bitcoin sta andando a reagire davvero molto bene come vi ho detto un po all'inizio siamo andati a fare una leg importantissima sull'orario che ci ha riportato proprio nelle zone dei 28.650 siamo andati a fare un vshaper recovery ragazzi in questa fase soprattutto chi ne ha beneficiato sono le big cap come ethereum che vediamo che fare 1840 dollari andare addirittura a bucare i massimi locali dei 1834 quindi ottima move potevamo aspettarcelo insomma io la mia buy zone che ve ne ho parlato prima era questa ok siamo entrati insomma in questo momento siamo tornati in vshaper quindi si possono tranquillamente andare a chiudere era un'operazione di scalp era un'operazione su un oversold oversold che è arrivato da manuale perché lo vedete due candele rosse così belle potenti da un meno 5 per cento orario sono cose che succedono poche volte o meglio volte succedono spesso però insomma in questa zona di liquidità soprattutto su un buon uptrend sono pesche di liquidità interessanti e importanti quindi bene perché bitcoin sta reagendo alla situazione si è riportato in carreggiata stessa cosa vale anche per smp 500 che è andato anche lui ad avere una buona legge si è riportato un po dove dove era prima sui 4000 dollari un po prima dell'fomc stessa cosa vale per us 30 che è tornato sui 30 2004 vedete il comportamento è stato stato simile cioè abbiamo avuto una correlazione abbastanza importante di nuovo quel mercato tradizionale oro che comunque mantiene il suo bel bel trend anche lui da tenere monitorato perché insomma sono degli indicatori che noi non andiamo a tradarli direttamente magari ma ci tengono un po in considerazione su quella che è i movimenti di mercato che coinvolgono anche noi il solito nostro ethereum btc che ogni volta non ho qua sotto la watch list ma che vedete appunto ha avuto un ottimo bounce e potrebbe avere continuazione ragazzi se la dominance andrà ad invertire perché per il momento rimane comunque ancora forte anche se ha corretto però rimane ancora abbastanza forte sicuramente ci potremmo divertire anche sulle al coin non è ancora il momento però insomma le reazioni le prime reazioni le abbiamo avute e soprattutto l'importante è la reazione che ha avuto bitcoin perché ancora una volta si dimostra resiliente a queste situazioni di mercato fatemi sapere anche voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti è stato un video un po più lungo del solito un abbastanza corposo però vi ho messo dentro tante cose vi ricordo la promo di zoom è totalmente gratuita solo se registrate però con ref link qua sotto trovate anche l'iscrizione per la lezione insomma che andiamo a fare non vi ho detto la durata ma saranno circa un paio d'ore due ore e mezza se necessario per le vostre domande andremo anche avanti oltre insomma però spero che sia un'occasione insomma per potervi formare direttamente anche con me insomma in privato con chi ha il piacere di farlo detto questo ancora una volta vi auguro una splendida serata e noi ci aggiorniamo presto con un prossimo video ciao a tutti ragazzi